Ciao, sono Stefano di Castelli dei Parrucchieri e in questo mio video vorrei fare chiarezza in merito ad un punto molto importante che spesso rappresenta fonte di preoccupazione per molte donne che ad un certo punto non vedono più crescere oltre ad una certa lunghezza i propri capelli. Ebbene sì, non è sempre possibile per tutti avere capelli lunghi fino alle caviglie o da Guinness dei primati. Spesso accade che i capelli non crescano oltre alle spalle ed in alcuni casi addirittura nemmeno le superino. Le persone coinvolte da questo tipo di fenomeno vanno nel panico perché temono che i loro capelli non godano di ottima salute. Ti vorrei però rassicurare sul fatto che se anche i tuoi capelli non si allungano come vorresti, molto probabilmente è solo perché questa lunghezza rappresenta la naturale vita della tua capigliatura. Ti lascio comunque alcuni consigli utili, affidati sempre ad un consulente di bellezza qualificato, fai attenzione alle colorazioni e ai trattamenti che utilizzi, assicurati che siano sempre di ottima qualità, utilizza anche a casa i giusti prodotti sul consulente di bellezza, ricordati che rifare una ricostruzione regolarmente con una certa scadenza, spesso mensile, aiuta a mantenere la fibra del capello come se non fosse mai stata trattata e tutto questo ti aiuterà sicuramente a far risaltare la tua personalità. Ciao, a presto!